Una stazione mobile per offrire ai cittadini una maggiore vicinanza con le forze dell'ordine. Da giorni in piazza Matteotti i carabinieri, vigili sul territorio, offrendo alla città un nuovo servizio, ovvero una struttura su quattro ruote sulla quale si possono raccogliere denunce e segnalazioni. Abbiamo messo la stazione mobile dei carabinieri con tre militari in piazza Matteotti e la funzionalità di questa stazione mobile chiaramente è sia quella di dare una maggiore fruibilità al cittadino dei nostri carabinieri, quindi la possibilità di incontrarli maggiormente, atteso che la nostra sede è distaccata dal centro e quindi avendo un presidio mobile lì a piazza Matteotti possiamo dare al cittadino la possibilità di incontrare i carabinieri. E poi anche per una questione di ordine e sicurezza pubblica, per evitare che ci possano essere risse o episodi di criminalità diffusa in centro cittadino. E' chiaro che i carabinieri si sposteranno a piedi, insomma, quindi non è escluso che possa comunque capitare qualche attività criminale, però speriamo che questa possa fungere da deterrente. Proprio lo scorso fine settimana abbiamo fatto dei posti di controllo, ovviamente mirati all'uscita dei locali notturni per evitare le cosiddette stragi del sabato sera, quindi con etilometro abbiamo fatto dei controlli alla circolazione stradale, anche quelli sempre per favorire la sicurezza. Insomma, un servizio importante non solo per restare accanto ai cittadini, ma per cambiare ed inculcare ancora di più il senso di legalità.